cari amici Maria benvenuti con il nostro libro le parole di Maria Meggiugorie stiamo facendo l'ultimo capitolo capitolo ottavo che riguarda appunto il futuro come sapete la Madonna ci ha già detto che Satana cerca di impaurirci col futuro ma il futuro è di Dio la Madonna ci ha dato fin dall'inizio delle apparizioni i segreti levati a Miriana che riguardano con la fase culminante della sua presenza che la porterà al crionfo del suo cuore immacolato quindi per quanto i segreti siano come ha detto la Madonna visioni terribili tuttavia vanno letti nella luce della salvezza cioè Miriana stessa ha detto che la Madonna con gli eventi dei segreti cambierà radicalmente il mondo ma non è che lo cambierà con un colpo di bacchetta magica è che attraverso i segreti questi eventi i popoli del mondo saranno chiamati a fare delle decisioni per Dio o contro Dio cioè o credendo o non credendo quindi saranno loro stessi a decidere del loro futuro che è un futuro diciamo che nonostante la grande prova può essere un futuro di salvezza e per quelli che non vorranno accogliere Dio la sua salvezza sarà un futuro di sconfitta e quindi nel tempo dei segreti sarà un tempo diciamo di decisioni tempo di conversioni e tempo anche di indurimenti e di ribellioni nei confronti di Dio ma alla fine la gran parte dell'umanità si convertirà perché questa è una deduzione ovviamente che faccio perché il trionfo del cuore immacolato significa il trionfo di Maria nei cuori o se volete significa l'apertura dei cuori alla fede in Gesù Cristo figlio di Dio osservatore del mondo e questo ovviamente deve riguardare un numero consistente di uomini perché la società cambia radicalmente una posizione un posto particolare nel tempo dei segreti l'avranno quello che la Madonna chiama gli apostoli del mio amore e che lei ha formato in tutti questi anni con bellissimi messaggi vi ricordate e sono quasi per dieci anni la Madonna attraverso i messaggi a Miriana ha formato quelli che saranno gli apostoli del suo amore in qualche modo la Madonna attualizza la grande profezia del Monfort sugli ultimi tempi sul ruolo degli apostoli di Maria che hanno in mano nella mano destra la croce nella mano senista il rosario che saranno testimoni coraggiosi grazie ai quali gran parte dell'umanità accoglierà la salvezza che viene da Dio per mezzo di Maria ed è appunto di questi apostoli cari miei che parliamo in questi posti degli ultimi tempi cioè anche possiamo dire il nostro compito nei tempi che nei quali siamo già entrati di fatto poi quando ci sarà la rivelazione del primo segreto quello è un segreto di Dio insomma pagina 210 leggiamo e commentiamo carissimi titolo è di questo capitoletto figli miei siate voi i miei apostoli quindi quelli che ha risposto alla chiamata sono chiamati a essere gli apostoli di Maria con l'inizio del nuovo millennio la regina della pace stringe i tempi per la chiamata e la formazione di suoi apostoli cioè da quando la madonna ha detto che è stata lasciando le catene da allora sono incominciati i messaggi nei quali la madonna forma i suoi apostoli gli apostoli del suo amore non si può non vedere qui la realizzazione straordinaria della profezia di san luigi maria di monfort sui tempi mariani che sarebbero sopraggiunti e durante i quali la madonna avrebbe formato i suoi apostoli per la più grande battaglia della chiesa contro satana e i suoi seguaci san giovanni parlo secondo ha certamente contribuito a rendere attuale in monfort lui da giovane ha letto il libretto del monfort la vera devozione e alla madonna e lui stesso rinnovava la consacrazione alla madonna con la famosa frase totus tuus che vuol dire tutto tuo san giovanni parlo secondo ha certamente contribuito a rendere attuale in monfort e a suscitare interesse per questa straordinaria figura rifondendo la pia pratica dell'affidamento a maria cioè monfort che parlava di consacrazione san giovanni parlo secondo usa una parola forse come dire meno densa teologicamente ma molto ricca effettivamente quella dell'affidamento a maria tuttavia san luigi maria di monfort è vivo oggi non solo per questo già jean guitton era un territoriale francese mariano molto amico di paolo sesto si era chiesto se con le apparizioni di rui du bac a parigi c'è la madaglia miracolosa non fossero iniziati quegli ultimi tempi profettizzati dal trattato della vera devozione c'è praticamente in monfort ha scritto il libro della vera devozione nel 1700 1707 mi pare le apparizioni a rui du bac sono venute più di un secolo dopo nel 1830 ma nel frattempo il ripretto del monfort la vera devozione era rimasto in un cassonetto per un secolo quindi è stato portato la luce in concomitanza con le apparizioni a rui du bac a parigi nel 1830 dunque questa coincidenza che il libro è stato trovato un secolo dopo sta a indicare appunto che possiamo ben datare i tempi gli ultimi tempi quelli in cui la madonna entra in campo proprio nel 1800 all'inizio 1800 perché è iniziato allora diciamo la il picconamento intellettuale del cristianesimo che poi portò alla rivoluzione francese leggendo le pagine profettiche del monfort sul futuro non troppo lontano caratterizzato dalla presenza degli apostoli di maria sia come la percezione che esso ci sia contemporaneo cioè leggendo questa pagina che leggeremo sembra quasi che parli del nostro tempo il monfort profezia straordinaria a oltre tre secoli di distanza perché il libro del 1707 quindi tre secoli di distanza il messaggio del profeta di maria illumina il nostro momento storico e dischiude orizzonti di speranza in una situazione mondiale piena di angoscia di tribolazione cioè non c'è dubbio caro amici che la madonna dedicando dieci anni praticamente dal 2000 2020 alla formazione degli apostoli di maria realizza la profezia del monfort sugli ultimi tempi che saranno contrassegnati dalla presenza degli apostoli di maria in monfort annuncia profeticamente un tempo in cui avverrà la piena rivelazione della madre di dio perché allora sarà conosciuta come mai prima la sua azione misericordiosa nella lotta contro i nemici di dio e nel segno della chiesa cioè qualche parole la il monfort annuncia proprio anche non solo gli apostoli di maria ma anche i tempi mariani quando la madonna sarà conosciuta come mai era conosciuta possiamo dire anche grazie a di maria adesso dio infatti intende per mezzo di lei schiacciare la testa al serpente infernale il quale negli ultimi tempi raddoppierà i suoi attacchi e diciamo al mondo dice satano è forte no e susciterà crudeli persecuzioni che cresceranno fino all'avvento del reno dell'anticristo dice monfort il diavolo chiamerà il diavolo chiamerà al suo servizio i nemici di dio della chiesa cioè i corrotti che fra i menti di odio come lui dice si raduneranno da ogni parte per attacco finale lo vediamo occhio nudo con tutte le loro televisioni mass media radio eccetera 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 per affrontare le schiere di satana e vincerle maria formerà i suoi apostoli gli apostoli degli ultimi tempi come richiama il monfort san luigi maria usa una sola una sola volta questa espressione gli apostoli degli ultimi tempi che lui stesso ha coniato ma di loro ne parla spesso con passione per mettere a fuoco l'identità e la missione che sono chiamati a compiere vediamo come sono descritti essi vengono descritti come santi eccelsi anime grandi piene di grazia e di zelo sono prodi soldati e fedeli servi di gesù cristo e servi fedeli e servi fedeli e verifigli di maria in monforto ha cura di mettere in evidenza la loro condizione sacerdotale chiamandoli ministri del signore figli di levi veri apostoli degli ultimi tempi in mezzo agli altri sacerdoti ecclesiastici e chierici tuttavia non sono affatto esclusi i laici in quanto il santo parla più in generale di anime elette nelle quali di maria regna sovrana e aprendo lo sguardo sul futuro preannuncia uno squadrone di bravi e valori soldati di gesù di maria dell'uno e dell'altro sesso quindi qui il gender verrà sconfitto insieme ai soldati dell'uno dell'altro sesso sono anche le schiere femminili anzi sono le più numerose e le più temibili la loro attività è quella di distruggere ed edificare distruggere il peccato e stabilire il regno di gesù cristo cito tutti i monfort perché sono pagine splendide fedele alla distinzione fra il peccato e il peccatore per cui bisogna odiare il primo e amare il secondo il monfort non esita a usare l'espressione più vehementi per descrivere il combattimento contro le forze del mare combatteranno rovesceranno schiacceranno tuoneranno contro il peccato grideranno contro il mondo colpiranno il diavolo i suoi seguaci sì ma devono essere pieni di maria e se no saranno odore di morte per i grandi ricchi i superbi mondani esistono anche i grandi i ricchi che sono umili e non sono mondani anche il vangelo ce lo dice quando presenta la figura di lazaro per dire no questo per essere giusti attaccheranno e abbatteranno i nemici di dio schiacceranno la testa dell'antico serpente con le loro ardenti preghiere scaglieranno frecce contro i nemici per abbatterli o convertirli ovviamente cari amici tutto per salvarle loro animi sia ben chiaro l'aspetto costruttivo dell'azione degli apposti di maria sarà rivolto soprattutto verso la chiesa che verrà riformata ed estesa in tutto il mondo dal loro ministero verrà rinnovato il volto della terra e riformata la chiesa metteranno dappertutto il fuoco dell'amore divino lasceranno nei luoghi dove hanno predicato solo l'oro della carità saranno il buon profumo di cristo gesù edificheranno il tempio del vero salomone e la mistica città di dio spanderanno la pioggia dalla parola di dio e dalla vita eterna lavoreranno per estendere il dominio dell'altissimo sopra quello degli empi degli idolati dei maomettani infatti il diluvio di fuoco che riceveranno li porterà a convertire persino i musulmani i pagani e gli ebrei quindi tutto questo diciamo così diciamo espressioni militari ci sono anche nella Bibbia espressioni militari in realtà poi a cosa mirano alla conversione di tutti alla salvezza di tutti a portare tutti in paradiso fatti ci porterà convertiranno persino i musulmani i pagani gli ebrei quindi avranno distrutto avranno spezzati a distruttare le catene del male e saranno liberi di dire sì a dio ovviamente questo lo fanno con la testimonianza di vita e con la parola e col coraggio sono soprattutto i sacerdoti ma anche i laici e gli uomini e donne io metterei anche i bambini anziani la storia della santità è meravigliosa e grandiosa a uomini di tutte le categorie e di tutte le età messe a fuoco l'identità e l'attività degli apostoli degli ultimi tempi in monforti descrive con parola di fuoco l'ardore spirituale che li caratterizza essi saranno anime grandi piene di grazia e molto uniti a dio il rapporto al padre avranno l'oro dell'amore l'incenso della preghiera la rete intenzione dell'amore di dio il rapporto al figlio ci saranno veri discepoli di gesù cristo e questi crocifisso in quanto mettono in pratica in modo radicale il vangelo lo annunciano nella pura verità senza guardare in faccia nessuno il rapporto allo spirito santo ne si guarda docilmente le ispirazioni interiori come nubi tonanti e vaganti nello spazio al minimo soffio dello spirito questo accadrà è già accaduto in parte perché per me il prototipo di questi apostoli di maria e san giovanni parlo secondo qui lui riassume tutte queste caratteristiche di cui parliamo forte essi saranno animati da uno zelo apostolico ardente come gli apostoli dei primi tempi anime grandi pieni di zelo io cito tutto quello che ha scritto lui eh metteranno dappertutto il fuoco dell'amore di dio in quanto essi stessi sono fuoco ardente nella lotta contro il regno dell'anticristo saranno frecce acute nelle mano della potente maria essendo stati plasmati dalla madre di dio avranno particolare devozione alla vergine santissima saranno rischiarati dalla sua luce nutriti dal suo latte guidati dal suo spirito sostenuti dal suo braccio custoditi sotto la sua protezione sono stirpe dalla vergine santa suoi veri figli e servi sui poveri schiavi umili figli il suo cascagno il suo calcagno schiaccerà la testa la serpente cioè la madonna dice che il calcagno di maria è formato da questi apostoli umili calcagno che però schiacceranno la testa serpente cioè la madonna con essi schiaccerà la testa serpente noi tutti dobbiamo cercare di essere il calcagno di maria eh lotteranno contro i nemici di dio con in mano il bastone della croce e la fionda del rosario e come loro maestro sperimenteranno persecuzioni e croci perché il demonio renderà insidia al calcagno di questa misteriosa donna calcagno siamo noi cioè la piccola compagnia dei suoi servi siamo una piccola compagnia ma solo abbastanza insomma la madonna l'ha formata lei questa compagnia per gli ultimi tempi che ci attendono non è certo un caso che il papa totus tus il cui pontificato si è sovrapposto all'apparizione della regina della pace si sia formato fin da giovane sull'insegnamento del monfort da lui definiti dal papa san giovanni paro ii un teologo di classe è proprio nella figura del grande papa mariano giovanni paro ii che possiamo vedere il prototipo degli apostoli di maria profetizzati dal santo bretone voi sapete che il mio libro preghino quattro ruote ho dedicato un capitolo intero ho visitato tutti i luoghi del monfort anche diciamo a montagnoli suo luogo dove è sepolto la sua la sua barra aperta la catena con cui è voluto essere sepolto e la catena con cui voleva dire che lui è incatenato alla madonna sono mostrati delle ore a meditare la barra del monfort adesso cioè la la sua ricostruzione di come ha voluto affrontare la morte mi piacciono queste cose come sono morti i santi la madre la madonna vorrebbe che tutti i suoi figli che hanno risposto alla chiamata meggiugorie fossero i suoi apostoli in modo particolare i sacerdoti che accorrono numerose meggiugorie vediamo tutti gli inviti della madonna in questo senso sugli apostoli di maria sia ancora un po di tempo vi invito a betola madonna diventare apostoli dell'amore della bontà solo con la preghiera potete diventare anche voi veri apostoli della fede solo con la preghiera potete diventare i miei apostoli della pace in questo mondo senza pace vi sto chiamando ad essere miei apostoli detto nel 2000 miei apostoli io sarò con voi e vi aiuterò vi invito figlioli ad essere miei apostoli di pace di amore nelle vostre famiglie datemi i vostri cuori così che in essi io metta mio figlio e faccia di voi i miei apostoli apostoli di pace di amore con il quarto decennio dell'apparizione la regia della pace moltiplica gli appelli e intensifica la formazione della consapevolezza che il tempo si è fatto breve e l'ora dell'impero delle tenebre incombe è giunto il tempo di rispondere sì sì senza ulteriori condilazioni figli miei siate voi i miei apostoli siate il mio fiume di amore io ho bisogno di voi figli miei apostoli miei aiutatemi ad aprire la strada mio figlio raduno voi che siete disposti ad aprirmi il vostro cuore che siete disposti ad essere i miei apostoli del mio amore perché mi aiutiate insomma la vogliamo aiutare sì o no con quello che lei fa e ha fatto per noi di quale aiuto ha bisogno la madonna in primo luogo per salvare coloro che camminano nella perdizione eterna la madre invita a camminare con lei così potrà mostrare che cosa si aspetta io con amore materno dimostrerò che cosa aspetto da ciascuno di voi da cosa aspetto dei miei apostoli incamminatevi con me come mamma prende il bambino e lo porta a vedere quello che il bambino deve deve raggiungere deve conseguire pregate affinché possiate essere apposti della luce di dio in questo tempo di tenebra e di disperazione questo è il tempo della vostra messa alla prova vuol vedere quanto valiamo quanto siamo coraggiosi figli miei non perdete tempo in vanità volete un consiglio spegnete la televisione spazzatura al 99 per cento figli miei non perdete tempo in vanità solo la conoscenza dell'amore di mio figlio vi può salvare egli mi ha scelto ed io insieme a lui scelgo voi che bello perché siete apposti del mio amore e della sua volontà figli miei su di voi viene una grande responsabilità cioè dio conta su di noi desidero che voi col vostro esempio aiutati i peccatori a tornare a vedere sono accecati che arriviate che accricchiate che arricchiate le loro povere anime e le riportate fra le mie braccia cari amici mi vien da a piangere noi dobbiamo cari amici tornare le scuome dagli occhi dagli occhi dell'anima via le scuome ai poveri peccatori che vanno sulla via della rovina arricchire col nostro amore la nostra sapienza le loro anime e riportarle fra le braccia di maria a me vien da piangere guardate noi dobbiamo riportarle fra le braccia di maria le anime dei peccatori per questa straordinaria missione la madonna bisogno di anime ardenti di carità rivestite di santità così straordinariamente descritti da monfort ha bisogno che i suoi apostoli abbiano come dice monfort no lui c'era madonna un cuore puro che siano portatori di luce che siano perseveranti affidabili radicati nella verità di dio doce nella guida dello spirito santo vuole in ultima istanza che siano una cosa solo con suo figlio vuole che siano raggi di sole che illuminano le anime apostoli del mio amore figli miei voi siate come raggi di sole che col calore dell'amore di mio figlio riscaldano tutti coloro che hanno intorno figli miei al mondo servono apposti d'amore al mondo servono molte preghiere ma preghiere dette col cuore e con l'animo e non solo pronunciate con le labbra desidera che noi cambiamo il mondo a posto del mio amore molti miei figli non riconoscono ancora mio figlio gesù come loro dio non hanno ancora conosciuto il suo amore ma voi con la vostra preghiera detta con cuore pure aperto con i doni che offrite a mio figlio farete sì che anche i cuori più induriti si aprano a posto del mio amore la forza della preghiera detta dal cuore la potente preghiera piena di amore cambia il mondo perciò figli miei pregate 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 li esorta a salvare la propria anima portando a tutti l'amore di gesù a posto del mio amore portati dall'amore verso mio figlio voi portate l'amore e la pace a tutti i vostri fratelli non giudicate nessuno amate tutti per mezzo dell'amore di mio figlio in questo modo voi vi occuperete della vostra anima la cosa più preziosa che vi appartiene e dopo aver compiuto la missione loro affidata gli apostoli di maria come già i dodici con gesù avranno la gioia di parlare di loro al padre celeste guarda che bello con la vostra vita aprite la via a tutti coloro che stanno ancora vagando in cerca della verità figli miei siate me apostoli che non hanno vissuto in vano non dimenticate che verrete davanti al padre celeste e li parlerete di voi cioè noi dobbiamo raccontare tutto quello che abbia fatto per la madonna e allora il padre celeste inviterà tutto il cielo per una stand di covation bene carissimi vorrei invitarvi scusate se mi permetto ma nel tempo di riposo delle vacanze queste sono tutte cose da rivedere perché speroniamo l'anima e la infamiamo d'amore non possiamo lasciare inattive questi doni meravigliosi che sono le parole che la madonna ci ha dato e che ci illuminano la mente e riscaldano il cuore ci danno la forza per creare un mondo di pace che è opera di maria ma anche opera nostra grazie a tutti grazie a tutti